La genesi del male di Iris Bonetti, Delos Digital, è l'ospite di questa puntata della ventesima puntata di Romanzi in diretta. Cominciamo subito. All'interno di un orfanotrofio pressoché abbandonato vive il giovane Ioan, uno degli otti bambini, rimasti soli alla merce di Olga, sadica tutrice. Decenni dopo, a Torino, viene trovato il cadavere di un senza tetto, con la pelle del volto divelta e appoggiata come una maschera macabra su una gamba. Al collo, un pupazzetto di pecora appeso con un filo di lana rossa. È la firma del pastore. Un plurio omicida sulle cui tracce da tempo oltre alla polizia anche il cronista investigativo Leonardo Landi, voluto dall'ispettrice Laura Pacini. Landi non è solo dotato di uno straordinario intuito, ma un dono speciale. La capacità di cogliere frammenti di eventi che devono ancora accadere attraverso immagini che sin da piccolo raffigura in disegni appena abbozzati. L'ultimo di questi è l'uomo puzzle. Nel corso della complessa indagine Landi non mancherà di dare un significato alla figura enigmatica che la sua mente ha generato, aprendo un varco su una verità ghiacciante del suo passato fino alle radici stesse del male. Allora, inizio subito dicendo non sarò originale perché in questi giorni ho sentito spesso dire questa cosa, ma la ritengo davvero vera. Io, l'ho detto anche all'autrice, ritengo che questo romanzo potrebbe tranquillamente diventare una serie tv. Più leggevo, più mi immedesimavo, più la mia mente visualizzava volti, assassini, visi, personaggi. È stato davvero un viaggio interessante, interessante. Tenuto conto che è un genere particolare il thriller, soprattutto quando è un thriller psicologico. A mio parere, per come, per la mia esperienza, per me, o prende o non prende. Ecco, io da che l'ho cominciato non sono più riuscita a smettere, quindi direi che iri scomplimenti perché hai centrato l'obiettivo. Non vi nascondo che, anzi prima di ciò vi voglio dire che cosa ho apprezzato tutto, ma in particolare dell'autrice ho apprezzato tantissimo lo stile. È poetica nelle descrizioni dei luoghi, dei personaggi e poi è spietata e fredda nelle descrizioni degli omicidi e riesce a creare una suspense che credo di riuscire a esprimere attraverso la mia lettura. Vi dicevo, vi accennavo che in alcuni c'è stato un attimo, più di un'occasione nella quale sono stata tentata di andare avanti per evitare qualche dettaglio. Ma attenzione Iris, perché non vuole essere una critica? Anzi è un complimento perché era talmente vero che, caspita, questo romanzo è credibile e aggiungerei, purtroppo, perché il male non ha confini. Quindi quello che leggiamo qui, che sembra così incredibile, purtroppo a volte riusciamo anche ad ascoltarlo durante il telegiornale. Quindi questo romanzo è a tratti brutale, ma caspita, è sempre credibile. A questo punto io dico, non è stato facile per me, perché trattare i thriller è sempre un po' rischioso. Rischi di farti sfuggire un dettaglio che in qualche modo può andare a rovinare, no? La lettura. E quindi è particolarmente difficile. Così ho trovato un escamotage, cioè io cercherò di raccontarvi questo romanzo attraverso i protagonisti e attraverso la firma della scrittrice. Vi dirò di più. Inizio soft. Inizio soft e vi faccio entrare nel suo mondo attraverso qualche descrizione che poi ritroveremo nelle letture che farò. Però voglio proprio partire dalle descrizioni. Quando dicevo che era poetica, quando dicevo che adoravo il suo stile. Ascoltate. I primi fiocchi di neve iniziarono a scendere, esibendosi in una danza ipnotica. L'autostrada era pressoché vuota e senza controlli di velocità. Prima che la neve attechisse, era il caso di incoraggiare l'acceleratore. Il motore salì di giri, aggredendo il manto stradale ancora asciutto. Nei pressi dell'albero uomini nella scientifica si muovevano come ombre bianche silenziose, grossi gnomi usciti dal bosco che fotografavano e prelevavano con occhi addestrati possibili prove lasciate dal macabro autore di quello scempio. Il suono dei flash sovrastava al vociare degli agenti. Ecco, io che vivo leggendo e dico sempre anche ai miei allievi, cercate di visualizzare quello che leggete perché se visualizzate voi visualizzerà anche l'altra persona che vi sta ascoltando. Ecco, io qui ho proprio visto i flash, mi sono ritrovata nel bosco e quindi mi sono ritrovata esattamente nella situazione che descrive l'autrice. Secondo me è questo che vuol dire fare una descrizione azzeccata, portarti immediatamente lì ed è esattamente quello che fa lei. Ve ne leggo ancora una. l'inverno lì sapeva durare a lungo ed egoista e ingordo, spesso allungava le gelide dita oltre il periodo a lui concesso. Secondo me è bellissimo. E adesso vi sembra giusto andare ad una descrizione ansiogena, come dico io. È un anticipo. Aprì gli occhi e fissò il soffitto nero rischiarato da un riquadro di luce livida diffusa da un lampione attraverso la finestra. Poco più a destra quattro cifre luminose rosse rimbalzavano l'ora proiettata dalla radiosveglia sistemata sul comodino 00 e 45. Questo lo fece capire che si trovava sdraiata nel suo letto, ma non ricordava di esserci andata. Qualcosa non quadrava. Il rumore di un'auto che si fermava le arrivò alle orecchie. In quella via tranquilla a quell'ora di notte non passava quasi mai nessuno. Le poche case erano abitate da gente anziana e quindi poteva trattarsi solo di quello strano tipo che viveva dall'altra parte della strada, Achille Baschi e si sorprese di dare importanza a quella cosa. Poi il telefono vibrò e si ricordò di averlo messo in modalità silenziosa. Era stato tutto perfetto con lui, stupendo, passionale e forse ora era lui che la chiamava. Fece per afferrare l'apparecchio ma non riuscì a muovere un solo dito, come se il corpo appartenesse a un'altra. Dilattò gli occhi, li sbatté più volte e li girò ovunque. Era l'unica cosa su cui avesse ancora controllo. Si stupì di come riuscisse a respirare in quell'immobilità. Mentre il panico la riempiva gridò, ma il suono restò appiccicato alla sua mente dietro le labbra inerti. Le parve che la stanza si chiudesse su di lei e l'oscurità la inglobasse come un mare d'aria, sempre più denso e pesante. Sentì un rumore. Qualcosa si mosse nel buio oltre la porta semisocchiusa della camera. Allungò lo sguardo verso il fondo della stanza, ma a causa del volto bloccato, gli occhi rotearono incapaci di spingersi oltre. Riuscì a scorgere solo lo spazio che si estendeva al di sopra della metà della porta e fu lì che vide un'ombra che la fissava. Ne era certa. Non era un riflesso. Era una persona, ferma, come un rettile pronto a mordere la preda paralizzata. Perché così si sentiva, costretta a un'immobilità mortale. Non poteva vedere gli occhi perché non brillavano nell'angolo da cui la fissava, ma se li sentiva addosso come dita l'uride. Forse, pensò, era già morta e quello era un demone venuto a trascinare via lei e i suoi peccati. La sagoma si mosse e quando passò davanti alla palida luce notturna che filtrava dalla finestra, lei vide che indossava una maschera nera come i suoi vestiti. Cercò di agitarsi, dirigendo la sua volontà alle braccia, lungo i fianchi, fino alle gambe, ma quel corpo le era estraneo. Una bambola di pezza, sotto il controllo di una presenza, introduzzasi in casa sua. Quando le fu sopra, una minuscola scheggia metallica, scintillò nella mano guantata e si riflesse nelle sue iridi dilatate. La riconove. Era la lama affilata di un bisturi puntato dritto alla sua tempia. No, quando dicevo che una descrizione ti porta lì. Ecco, per me questo vuol dire arrivare a chi ti legge, Iris. Vuol dire arrivare a chi ti legge. Allora, riprendiamo le fila del discorso. Io sono già in ritardo, non riuscirò mai a leggere tutto, ma non importa, andiamo avanti finché possiamo. Allora, cominciamo da il personaggio che vediamo qui nella copertina. Abbiamo detto nella seconda appunto di copertina che il tutto inizia in un orfanotrofio. Allora, c'è un flashback, quindi ogni qualvolta ci sarà durante il libro un corsivo è perché spesso si parla di qualcosa che è avvenuto. E cominciamo appunto da quello che è successo molti anni prima. La corazza della blatta emise un suono secco. Quando si spezzò, il suo ventre esplose come una pustola putrescente. Le dita che l'avevano compresa si imbrattarono di un liquame giallognolo macchiato da minuscole tracce di sangue. Ioan restò a fissare il suo crimine e godette di quell'unico piacere che si concedeva. Con le piccole mani raccolse l'altro scarafaggio ucciso poco prima. Le viscere si erano già essiccate in parte sul pavimento. Aggiunse entrambi i corpi al cumulo che aveva dedicato a quella razza di insetti ai piedi del letto. Gli altri due piccoli mucchi comprendevano mosche e vermi. Rappresentavano i cimiteri senza cancelli di Ioan, privi di tombe e fiori. Ciò che era morto restava lì, a portata di mano, sotto il suo controllo. Col dito sporco d'interiore attracciò una riga su un foglio, dando forma all'ultima di otto croci riprodotte su un cartoncino nero che teneva sotto il materasso. Lo guardò distaccato, come se non fosse lui l'artefice, domandandosi che significato potesse avere. La pioggia tornò a picchiettare forte sui vetri, penetrando il silenzio della stanza. Ioan nascose il disegno tra il materasso e la rete arrugginita e diresse lo sguardo verso l'esterno, fondendo il suo amore col cielo incupito dal temporale. Mentre Ioan stava lì a guardare, sentì nell'ombra uno scricchiolio. Di getto si fiondò sul letto e si coprì con la coperta infeltrita, troppo corta per il materasso. Le punte dei piedi fuoriuscivano, ma se fosse stato fermo, nessun mostro avrebbe potuto accorgersi di lui. Qualcuno si stava avvicinando, lo distingueva con certezza. Ne udì il respiro, finché due mani non lo afferrarono per le gambe, e lui urlò. Una risata squassò lo spazio vuoto e lui riconobbe da chi proveniva. «Preso!» gridò la voce. Era il piccolo Leo, il più giovane dei compagni rimasti nell'orfanitrofio con lui. Nell'ingenuità dei suoi cinque anni non aveva ancora imparato a tenere la severa Olga anaffettiva e squilibrata, unica rimasta a badare a loro, se così si poteva dire. si rassegnò Ioan. E se lo avesse sentito? Se lo avesse scoperto allontanarsi, pensò? Forse lo avrebbe appeso per i piedi e lasciato a rinsecchire. «Ma che ti hai preso? Sei un'idiota! Te l'ho fatta! Vuoi farmi morire?» I piedi del letto appoggiandovi i gomiti, sfoderando un sorrisetto sul viso scarno. «Glielo dico a madama Dogia!» Lo minacciò lui. «Non hai il coraggio, non hai il coraggio!» «Vuoi vedere?» Lo intimò. Un suono di passi e che già improvviso dalla lingua nera del corridoio, come se chi li trascinasse fosse apparso dal nulla. Olga era in grado di essere un gatto quando voleva e trasformarsi in un orco quando qualcuno gliela faceva sotto il naso. Questo Ioan lo sapeva bene. «Leo!» «Questo sia una sciocca, una stupida che puoi prendere in giro!» «Non credevo! Tu non credevi, eh? Bene, ora crederai! Crederete tutti quanti e capirete una buona volta!» La voce stridua stonava in quella cassa di risonanza che aveva come torace. I seni le sombalzavano come fossero di gelatina. Se la sua minaccia non avesse avvolto Ioan nel terrore, forse ne avrebbe riso. Ma nessuno di loro fiatò. A grandi passi si fiondò sul piccolo Leo e lo raccattò come uno straccio. Lo trascinò fuori, ordinando a tutti gli altri di entrare e attenderla lì. Quella sera nessuno di loro avrebbe cenato, promise gridando, svanendo poi nel vuoto dell'edificio. Quella notte fredda e umida. Io, insieme agli altri, vide Leo nel cortile al gelo dell'inverno, costretto a recitare la solita fiaba che Olga aveva loro insegnato. La conosceva a memoria e così obbedì, ripetendola di continuo. «C'era una volta una vecchia che si chiamava Babadogia, che viveva col figlio della Gobebe. Arrivò un giorno in cui il figlio divenne un uomo e decise di prendere moglie. Perché ti sposi?» chiedeva Babadogia. «Non sei felice qui con me nella nostra casa?» C'era una volta una vecchia che si chiamava Babadogia, che viveva col figlio della Gobebe. Arrivò un giorno in cui il figlio divenne un uomo e decise di prendere moglie. «Perché ti sposi?» chiedeva Babadogia. «Non sei felice qui con me nella nostra casa?» Lei era solo. Con indosso un semplice pigiama di flanella su cui sorridevano minuscoli girasoli. Lo si vedeva tremare fin lassù, dal piano da cui lo osservava Ioan con i compagni. Lo vide sollevare uno sguardo disperato verso di loro, muti e impietriti. Le parole erano interrotte da singulti e Ioan sapeva che presto quelle lacrime si sarebbero trasformate in piccoli cristalli. Probabilmente Leo doveva sentirsi come un uccellino caduto che chiede aiuto per essere riportato nel nido, un nido da cui era stato cacciato. La voce del loro amico tremò sempre di più, fino a che il racconto cominciò a suonare come un balbettio. Andò avanti a lungo. Poi svise di parlare e venne l'oscurità. Un pomeriggio a Ioan venne un'idea. Il corpo del piccolo Leo doveva trovarsi ancora in qualche lugubre anfratto dell'orfanotrofio. Non aveva visto infatti arrivare nessuno a portare via al cadavere. Nessuna visita, nessuna ambulanza. Doveva essere ancora tra quelle mura. Era il pomeriggio nel quale la terribile Madame Dogia si sarebbe assentata dopo averli chiusi all'interno di quell'inferno dimenticato. Ioan cercò di convincerli uno dopo l'altro. Dove può aver messo il corpo secondo voi? chiese ai compagni terrorizzati. Alice si mise a piangere e i due fratellini, Elia e Manole, la zittirono dandole della femminuccia. Non so, forse al piano di sotto dove ci sono tutti quegli attrezzi, ipotizzò Eric, di solo un anno più giovane di lui. Potrebbe, è vero. Là è buio e fresco. Proviamo, esortò Ioan, caricato nel sentirsi il loro capo. No, no, noi non veniamo. Cecilia, Dora e Alice fecero fronte comune contro quell'idea. Va bene, non abbiamo bisogno di voi, ribatte Eric, fingendo un disinteresse che Ioan sapeva non provare. Restate pure qua, noi andiamo, aggiunse Manole. Le tre bambine si mostrerono offese, ma non appena Ioan e gli altri si mossero verso le scale, li seguirono a ruota. Scesero due piani, il silenzio amplificava l'eco dei loro passi. Una tubatura grugnì, un gorgoglio cupo che corse per il soffitto. Alcune stanze cieche si aprivano alla loro sinistra come bocche fameliche di uno stomaco sommerso. Oltrepassarono una vecchia stufa coperta di fuligine, un odore pungente. Nauseabondo raggiunse Ioan all'improvviso, appena voltato l'angolo. Il suono metallico di una latta rugginita rupe il silenzio quando Manole lo colpì col piede. Facendola finire contro la parete opposta, si fermarono. Il tanfo arrivava da una camera poco più avanti. Si guardarono l'un l'altro con i cuori che battevano all'unisono. Ioan avanzò per primo, premette l'interruttore fuori dalla porta e il buio scomparve scacciato dal chiarore di una vecchia lampadina nuda appesa al soffitto. Sembrava che la luce stessa volesse fuggire, trovando riparo al trore. Il corpo di un bambino stava disteso su un tavolo di legno ammuffito. A uno sguardo più attento Ioan notò che radi, fiocchi di spore favoriti dall'umidità, gli avevano intaccato il lisetto pallido. Restarono ammutoliti e troppo agghiacciati per muovere un altro passo, sia avanti che indietro. Quella era la morte e li stava scrutando. Fu il primo momento in cui Ioan pensò alla follia umana e quanta dovesse albergare in Olga che fingeva di occuparsi di loro. Nell'attimo in cui la visionò, realizzò il motivo per cui lei era rimasta con loro e ciò che dovevano rappresentare per quella donna un pasto sadico che deliziasse il vuoto di una vita deplorevole e solitaria. Capri e spiatori abbandonati su cui sfogare il proprio sadismo represso. La cosa sorprendente era che da una parte di lui cominciava a comprenderla. Vi ho presentato questo ragazzino, questo ragazzino. La sua credenza, la sua crudeltà e il suo sadismo si leggono già dalle prime righe, no? Ricordate quando ho letto che godeva nel vedere questi insetti morire, addirittura si riteneva lì, no? Per ricordare che erano sotto il suo controllo. Ma la cosa più agghiacciante è che riesce a comprendere, a otto anni, riesce a comprendere la follia di Olga. E allora io dico, ma questo personaggio, ma che cosa sarà? Chi sarà all'interno di questo? Beh, di romanzo, scusate. Beh, vi posso assicurare che questa, che questo personaggio vi stupirà. Ma vi stupirà nel vero senso della parola. Dobbiamo capire se in senso positivo o negativo, questo lo lascio a voi con la lettura, ma sicuramente vi stupirà. Allora, grazie, qui sto leggendo. Sei bravissima a leggere, mi hai fatto paura. Ha detto da chi l'ha scritto, non è male, eh? Riuscire a far paura la scrittrice. Complimenti, mi scrive Chiara, non so se ho il coraggio di leggerlo, ho tanta inquietudine. Guarda, se l'ho letto io tutto, lo puoi leggere tranquillamente anche tu. Allora, entriamo nella storia attuale, perché vi ho detto che questi sono flashback. E tra l'altro, scusate ogni tanto, e questo è un appunto davvero che voglio fare alla casa editrice, perché è scritto veramente, veramente piccolo. C'è anche da dire che quando cominci a leggere poi questa sensazione passa. Ma ora, soprattutto nel corsivo, vi assicuro che devo, sono anziana, eh, chiaramente, quindi devo allontanare, ma piccolo, piccolo, piccolo. Quindi, editore, per favore, per la prossima indagine, se ci sarà, aumenta di un paio di, eh? Un pochino più grande. Allora, entriamo nella storia, cioè entriamo nell'oggi. Andiamo a vedere, eh? Leonardo Landi gettò uno sguardo all'ora e al tachimetro, constatando che l'audi su cui viaggiava, macinava asfalto da quattro ore e Firenze ormai distava 350 chilometri più a sud lungo l'ospitale. Ne mancavano ancora poche decine a Torino, o meglio, a quel parco dove la vicequestore Serra aveva dato appuntamento a lui e all'ispettrice Laura. Facini. Si trattava del poggio più alto nei dintorni del capoluogo piemontese, il colle della Maddalena. Il cielo latte o minacciava un nebischio che a breve si sarebbe abbattuto lungo l'autostrada e la città sabauda. Ai minuti che mancavano si accavallavano anche i pensieri, quelli che raggiungono lo stomaco e diventano un campo minato. Vorticavano sulla brutale serie di omicidi commessi a Firenze, che lui stesso aveva battezzato del pastore nei suoi articoli, che ora sembrava trasferitasi a Torino col primo caso. Si domandava se poteva trattarsi dello stesso assassino. Cosa diavolo può portare il re degli imperi a passare dai Fiorentini ai Turinetti? Fa differenza? Forse no, concluse sommando le riflessioni. Dal fascicolo fuoriusciva al lato di un disegno. Raffigurava un puzzle dalla forma umana composto da otto tasselli, otto frazioni di un tutto che Landi doveva ancora decifrare. Si trattava dell'ultima visione trasferita su carta che la mente gli aveva consegnato, frutto di un dono acquisito in teneretà. Dietro alle immagini che lui vedeva e poi tracciava, potevano nascondersi frammenti di futuro come risposte, il più delle volte a qualcosa che stava cercando. Tra queste forse la possibile soluzione al caso, gli dedicò solo una rapida occhiata, ripensando alle giornate che aveva speso nell'intento di dargli un senso a causa della natura a scusa delle sue visioni, e questa non faceva eccezione. Tornò a concentrarsi sulla strada. I primi fiocchi di neve iniziarono a scendere, esibendosi in una danza ipnotica. L'autostrada era pressoché vuota e senza controlli di velocità. Prima che la neve attecchisse era il caso di incoraggiare l'acceleratore. Il motore salì di gire aggredendo il manto stradale ancora asciutto. Leonardo tornò a pensare. Posò una mano sul fascicolo appoggiato sul sedile accanto. Riguardava l'indagine che stava seguendo per il suo lavoro da giornalista investigativo sul nuovo mostro di Firenze, simile a quello del passato, solo per la natura disumana, non per la tipologia dei crimini. Questo omicida non si accaniva sulle parti intime, ma sui volti. Sradicava la loro identità, ne cancellava l'espressione, li eliminava dal mondo. E ora era lì, al suo fianco. Lo seguiva, impresso su quelle pagine in un'altra città, come un copilota di rally in una gara dagli esiti ancora indefiniti. Ma dove vuoi arrivare, razza di stronzo? Nessuno gli avrebbe risposto, non ancora. Il colle adesso da quella distanza si vedeva, non mancava più molto. Lo stava aspettando come una donna al primo appuntamento, e questo già la diceva lunga. Chi aveva portato lì la sua vittima non aveva rischiato molto, immaginò Landy. Doveva aver scelto quel luogo con cura, dopo ponderate riflessioni. La strada consentiva a un'auto di addentrarsi a sufficienza nella parte boschiva, per nascondersi da occhi indiscreti, e poi, nelle notti invernali come quelle, nessuno si sarebbe trattenuto al freddo per una romantica passeggiata senza stelle. Landy parcheggiò la macchina in coda a quelle della polizia. Scese, si estrizzò nel suo giubbotto di pelle fuori stagione, alzò il bavero comprimendo la sciarpa attorno al collo. Cerco l'auto di Laura Pacini, ma non la vide. Ipotizzò che sarebbe arrivata a momenti. La zona era stata isolata. Non appena si avvicinò, un capannello di uomini puntò su di lui espressioni torde. Uno di questi lo fermò per domandargli chi fosse. Lui prontamente rispose, Leonardo Landy, giornalista investigativo che collabora con la questura di Firenze. Sono qui con l'ispettrice Laura Pacini. Si guardò attorno simulando una ricerca. Non la vedo ancora, ma arriverà a minuti. Siamo stati convocati dalla vicequestore Serra. L'agente che l'aveva fermato gli indicò un gruppo di poliziotti vicino a una pianta. È laggiù. Grazie. Landy si avvicinò. Nei pressi dell'albero uomini della scientifica si muovevano come ombre bianche silenziose. La sua attenzione era già agganciata a quel pupazzo umano, simile a tutti gli altri entrati nella sua vita giornalistica da più di tre anni. Era appoggiato alla pianta, con le braccia legate dietro la schiena, sulle gambe, ciò che restava del volto, floscio e imbrattato di plasma come uno scalpo. Al suo posto una maschera di sangue ormai seccato sopra il grasso sottocutaneo, i linamenti resi indefiniti, i bulbi oculari, esposti come quelli di una bambola spettrale di un film horror, fissavano vuoti davanti a sé lo spazio con tutta probabilità occupato in precedenza dal suo assassino. Prima che potesse avvicinarsi al cadavere, una donna, dal fare mascolino, gli allungò una mano. I suoi occhi erano come pietre nere levigate nel letto di un torrente, indecifrabili. Lei deve essere Landy, l'ho riconosciuta dalla foto. Non la immaginavo così giovane. «Si vede che le foto mi invecchiano», sciorinò la stessa risposta alla consueta osservazione che gli veniva fatta. Afferrò la mano della donna e lei gliela stritolò in una stretta possente in linea con il look poco femminio. La mascella allargata, le labbra pressoché inesistenti e gli occhiali squadrati su un naso dritto come una squadra le indurivano l'espressione. Unico tocco femminile, una corta coda castana. «Vicequestore Alessia Serra», dirigo le operazioni. «Piacere», rispose lui. «Ecco», pensò Landy, «lei è la persona che ha richiesto me e la Pacini qui a Torino». Per la seconda volta, come era stata Firenze ai tempi, si domandò il motivo per cui un dirigente della polizia accettasse di rendere lui un giornalista partecipe a un caso. Si rispose allo stesso modo, probabilmente era dovuto ai successi delle sue immagini. La cosa strana era come fosse nato quel rapporto stretto con la polizia all'epoca del questore Rosati, ancora prima dei suoi risultati positivi, ma non si arrovellò. Non deve essersi informato sul clima di Torino, quel giacchino non credo e la riparerà molto. Ci sono abituato, grazie. Anche a Firenze il freddo non scherza, ma odio avere troppa roba addosso. D'accordo? Sono contenta che sia riuscita ad arrivare in tempo prima che rimuovessero il corpo. Certi messaggi vanno decifrati sul posto e ho saputo che lei è un abile osservatore. Ho letto i suoi articoli», aggiunse la Serra. «La ringrazio». «Beh, mi ha parlato molto bene di l'elvecequestore Lucchesi con cui collabora. È stato lui a invitarci di servirci delle sue capacità, anche se detta così suona male». «Mi ha chiamato poco fa la Pacini, dicendomi che a breve sarebbe arrivata», affermò Alessia Serra, proiettando lo sguardo alla fine della strada. Landi guardò il suo telefono. Aveva tre chiamate non risposte, lo scatto del silenzioso abbassato e un messaggio da Laura che mi diceva «al solito non rispondi». Arrivo. Allora, qui entriamo nel romanzo e soprattutto andiamo a conoscere Leonardo Landi, giornalista investigativo e non solo lui, nel senso che adesso faremo delle letture dove andremo a comprendere anche un altro personaggio importantissimo all'interno di questo romanzo che è «Ana, la psichiatra forense». Come dicevo, come ho accennato durante la lettura e nella seconda di copertina, il giornalista si è fatto notare per il suo intuito straordinario e perché riesce a prevedere in qualche modo ciò che sta per accadere, ma frammenti di verità future, non esattamente tutto. E come fa? Attraverso dei disegni, lui ha questa sorta di intuizione, vi faccio vedere il disegno del quale abbiamo accennato, eccolo qui, ma che caspita vorrà dire? È questo il punto, che su queste intuizioni lui deve lavorare e cercare di capire che cosa significhino. Che tipo è? È un uomo, un bell'uomo, sfiduciato però e soprattutto nei confronti delle donne. Ebbene sì, la delusione più grande inizialmente l'ha avuta dalla madre e poi è da una donna che lo lascia poco prima di sposarlo. Quindi lui vive questo tormento della madre e di questa moglie, anzi di questa mancata moglie. Eppure il destino farà sì che lui dovrà sempre lavorare con donne, quantomeno in questa indagine. E vi leggo giusto un piccolo pezzetto da dove si evince questo suo... fastidio è una parola grossa, però questo suo, come dire, caspita tant'è, mi toccano sempre loro, eh? parla con l'altra persona e dice, il piacere è mio, una squadra tutta in rosa, vedo. Non antepose filtri a quel commento e non si lasciò sfuggire l'espressione di disappunto sul volto della vicequestore, se l'era cercata. Nel frattempo strinse con vigore la mano della barale che rimane moscia come una gatta morta. Spero che questo non sia un problema per lei, lo pungolò a lei si asserra senza particolare accredine. E perché dovrebbe? Landi raddrizzò il tiro. Ecco, diciamo che è una squadra tutta in rosa, non parte, non parte benissimo, eh? Sembra un puzzle, ma è un puzzle. Esattamente, sono otto, come si dice, otto pezzetti di un puzzle, esattamente così, che formano un uomo, evidentemente. Bene, andiamo avanti. Quindi, partiamo dal fatto che lui con le donne, insomma, non ha tutto questo rapporto, ma in realtà sarà proprio con una donna che si sentirà di entrare nei suoi tormenti. È proprio, è proprio, scoprirà proprio il piacere di aprirsi con lei. È una persona con la quale lui si sentirà da subito a proprio agio. Questa donna, l'ho accennato prima, si chiama Ana. È una psichiatra forense, molto stimata dalla vicequestore Alessia Serra, che infatti non esita a chiamarla quando ha necessità, proprio per le sue capacità. Ana è una donna che sa il fatto suo. È molto affascinante, è avvolgente e sarà proprio lei a fare il primo passo con Landi. Per conoscerlo meglio, lo inviterà a bere qualcosa. Allora, andiamo a scoprire entrambi i personaggi attraverso un paio di dialoghi. Anna le aveva proposto di andare a bere qualcosa. Anche lui a questo punto era curioso di approfondire la conoscenza con la psichiatra con cui avrebbero collaborato. Quando arrivò sul luogo dell'incontro, apprezzò l'architettura di Santa Maria della Consolazione, racchiusa nella minuscola piazzetta che Google gli aveva descritto. I mattoni scuri dell'austero campanile risaltavano su una Torino imbiancata. Quell'angolo della città sabauda non era quello dei grandi spazi di piazza Castello che ricordava Landi, ma un'area più raccolta, impreziosita da un'ottima caffetteria scelta da Anna per il loro incontro. Il Biceri dove gustarsi qualche specialità torinese. Un giornalista investigativo. Cosa ti ha spinto a fare questa professione? Landi avrebbe potuto rispondere che la ragione era la semplice ammirazione verso chi sapeva farlo davvero, ma si limitò a dire la verità altrettanto scomoda della sua scelta. Mio padre era un giornalista, non investigativo nel senso letterale del termine, ma era un buon cronista. Lo ricordo quando scriveva nel suo studio l'ultimo articolo della giornata per consegnarlo entro l'ora utile alla stampa. Ricordo i racconti dei fatti di cronaca che facevano inorridire mia madre. Il suo mondo mi incuriosiva già allora, vivo, dinamico, al contrario di quello di mia madre, dedito solo a me e a mio padre. Tua madre non ha mai lavorato? No, ha dedicato la sua vita a me, mi ha desiderato a lungo. Sentì la tristezza penetrarli nel cuore come uno stiletto. Ci sarebbe stato molto altro da aggiungere, ma si interrompe. Anna sembrò non cogliere la sua ombra. Beh, questi lavori come il tuo, o quello della pulizia, o in parte il mio, da psichiatra forense, non sono facili, sempre a contatto con la violenza e l'orrore umano, affermò. Già, la verità credo che avrei preferito, in verità credo che avrei preferito fare lo scrittore, è più tranquillo. Alla fine però ho scelto la strada che mi consentisse di fare entrambe le cose in un certo senso. Lo stesso fatto di cronaca può essere scritto in molti modi diversi, anche se tutti raccontano la stessa storia. Su questo hai ragione. Ho letto i tuoi articoli. Svisceri i casi da un'angolazione particolare. Grazie, lo prendo come un complimento. Ma dimmi di te. Hai accennato che l'ambito forense è uno di quelli che tratti. Di cos'altro ti occupi? Sempre di psichiatria? O dei pazienti al di fuori del tribunale? Davvero? Sei atipica allora? Di solito gli psichiatri forensi non lavorano al di fuori delle situazioni giudiziarie. È vero, di solito non lo fanno, ma io ho deciso di mantenere entrambe le competenze. Questo mi consente di ampliare l'esperienza verso certe patologie. Con i pazienti creo un rapporto diverso e riesco ad andare più in profondità. Lo capisco, è interessante. Comunque anche quest'altro ambito del tuo lavoro non è tanto leggero, voglio dire parlare a gente con problemi più o meno gravi. È così, infatti. È difficile non farsi coinvolgere dalle loro storie. Ti restano attaccate. Non so se riesco a rendere l'idea. Perfettamente. E quando succede? Come fai a venirne fuori? Una ciocca di capelli le scivolò davanti al viso con un movimento aggraziato se la sistemò dietro l'orecchio. Ci rifletto e lo affronto col paziente. È una strada che si percorre insieme. Sa darti anche grandi soddisfazioni, superare le paure e i dolori. È per tutti il desiderio più grande. Un tormento che si vuole annullare. Fosse così facile. Non si può superare tutto. Qualcosa di risolto? Ho più di una cosa, ma la più grossa sono i miei. Mia madre e mio padre. gli ho persi parecchi anni fa. Ero poco più che un bambino. Qui comincia l'amicizia tra Anna e Landy, che diventa così intima al punto che lui si fiderà così tanto di lei che le consentirà di fare qualcosa che nella sua vita non aveva mai fatto. Anna gli propone una psicoterapia ipnotica e lui accetta. Quindi ho deciso di leggervi questo dialogo che racconta l'incidente dei genitori. Sto evitando di rivelare cose che potrebbero rovinare la lettura. Quindi state tranquilli perché ho studiato tutta la perfezione per non rovinare la lettura di questo romanzo, ma per incuriosirvi. Fatemi sapere se ci sto riuscendo. Leonardo, respira con calma. Nulla di quello che vedi si può ripetere. Sono ricordi. Non devi temerli. C'è un uomo che si aggira da qualche giorno attorno alla nostra macchina. Non so chi sia. Perché mi racconti questo? Cosa c'entra con l'incidente che hai vissuto? Non lo so. Non lo so perché è là, ma non lo vedo con chiarezza. Sono nella mia camera. Chi c'è lì con te? Nessuno. Sono da solo. Guardo fuori perché quell'uomo passa spesso. Guarda sempre l'auto con un fare strano. Chi è? Riesci a vedere il volto? No, non bene. Vedo che hai capelli abbastanza lunghi, biondo scuro. Va bene. Torniamo a... Sta aprendo il cofano. Vuole rubare l'auto, forse. I miei non sono a casa, non so cosa fare. E poi? E poi c'è qualcun altro nascosto. Vedo parte di un braccio, di una spalla dietro l'angolo della casa di fronte. Credo mi abbia visto. Ma io non vedo lui. I tuoi ora sono tornati. Parlami del viaggio. Sono in auto, ancora con i miei. Papà guida veloce. Di solito non lo fa. Mia madre grida. Ma perché tuo padre lo sta facendo? Non si ferma. L'auto non si ferma. Oddio, moriremo. Moriremo tutti. Leo, fai un bel respiro. È solo un'immagine dentro di te. Non sei morto. Sei qui con me. Landy era ancora dentro l'auto. La vettura era ferma, ma inclinata, in modo innaturale. Sentì l'aria addensarsi e scendere nei polmoni come liquefatta. Suo padre era immobile e abbracciava il volante. Parte del corpo di sua madre era stato proiettato fuori dall'auto e giaceva sul cofano. Gli occhi aperti lo guardavano. Boccheggiava qualcosa, ma sembrava più il riflesso della vita che la stava lasciando. Landy gridò, ancora più forte, ma forse lo sentiva solo nella sua mente. Piangeva nel suo ricordo. Non riusciva a muoversi. Il suo corpo era legato al sedile e la cintura di sicurezza gli attraversava il costato. Non aveva ferite. Era miracolosamente illeso, ma sapeva che da quel momento sarebbe rimasto solo. La più grande perdita è ciò che muore dentro di noi mentre stiamo vivendo. Non ricordava chi l'avesse detto, ma era vero. Lui era morto dentro, o almeno una parte di sé. Mentre percorreva con l'auto le arterie della città, ripensò ai suoi genitori, a quell'omicidio rimasto senza un colpevole e lui orfano senza risposte. La verità era che il senso di colpa non l'aveva mai abbandonato, come l'odore di sigaretta che si appiccica alla pelle e col tempo diventa più acre. Aveva scavato, così in profondità, da toccare parti di sé che ancora non conosceva. L'ipnosi di Ian aveva sfondato degli argini dentro di lui, come quando qualcuno mette in ordine il tuo spazio e ti accorgi che c'è un oggetto fuori posto, prima ancora di realizzare quale sia. Lo percepisci. È un elemento nuovo nella composizione. Landy si domandò quale fosse, ma ancora non riusciva a visionarlo. Perché Landy si sente in colpa? Per l'incidente? Per il fatto che lui non ha... per il fatto che lui sia salvato? Che solo lui si è salvato? Indovinate un po'. Dovrete leggerlo per scoprirlo. Allora, mi fermo un secondo. Direi che riusciamo, perché abbiamo iniziato ai 37, quindi per me finiamo ai 37 e abbiamo ancora un po' di tempo. Io bevo un bicchiere d'acqua. Mi vorrei leggere un po' i commenti che sono arrivati. Grande luci, grazie. Che meraviglia questa diretta, grazie. Mi stai emozionando, riesci a portare fuori i personaggi. Impressionante. Grazie Iris, grazie mille. Alessandra Lensi. Poetica a galla i più profondi sentimenti e paure. Brava Lucia, emozioni come sempre. Grazie. Maria Paola scrive meravigliosa lei. Grazie. E la storia scritta. Valentina Meana. Solo lui ci ha salvato. Eh già. Ah, porti a galla. Allora, volevo vedere. Allora, abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto, abbiamo intravisto l'opportunità di conoscere Ana, una psichiatra forense. Abbiamo detto essere molto apprezzata a Torino e quindi viene spesso chiamata quando ci sono casi da risolvere importanti. Ma questa donna, secondo voi, è cristallina? O forse ha iniziato a fare questo mestiere perché magari anche lei non ha avuto una vita molto facile? Io ho deciso di leggere un brano su Ana per farvi capire che forse la sua sensibilità nei confronti di Landi non deriva soltanto dal tipo di mestiere che fa, ma magari il suo vissuto l'ha portata a innanzitutto voler fare questo mestiere e a comprendere bene l'animo umano. Allora andiamo a cercare la pagina. intanto vi do una piccola descrizione di lei, così la potete immaginare. Gli occhi allungati color verde bosco si intonavano con la natura attorno. Un liscio caschetto appoggiato alle spalle e contornava l'ovale aggraziato conferendoli una bellezza sofisticata e un taglio grigio sotto il cappotto. Le fasciava il corpo asciutto. La conosce vestita così, Landi, e quindi inevitabilmente ne rimane affascinato immediatamente. Immaginate questo taglio grigio, questa donna con gli occhi verdi in un luogo così, in quel momento, terribile. Un cadavere senza volto e questa figura che arriva. Io l'ho immaginata, l'ho vista tantissimo. Allora andiamo a raccontare di lei. Anche qui è un dialogo tra lei e Landi, un po' più avanti, d'accordo? Lui le chiede, sei mai stata sposata? No. Troppo presa dal lavoro? In parte, ma non solo. La risposta invilico mostrò la scarsa intenzione di approfondire il discorso. Una lacrima le solcò il viso perfetto, mostrando una ferita che probabilmente non aveva superato. Non amo parlarne. La fissò senza sapere cosa aggiungere, poi le sfiorò il volto con una mano. era molto tempo che non si sentiva così vicino ad una donna. Allora non dire niente. Lei sembrò rimpicciolirsi e svanire, fino a lasciare lì solo il suo riflesso. Fissava un punto lontano, come se si fosse spostata in un altro luogo e tempo. Ho subito uno stupro, tanti anni fa, da una persona che conoscevo e di cui mi fidavo. È un'esperienza difficile da superare. Ce l'ho messa tutta ed eccomi qui. Ora sono io ad aiutare gli altri. Riempi i polmoni con un profondo respiro. Tutto ad un tratto a Landi sembrò che la stanza ne fosse priva. Mi spiace. È una cosa terribile, non oso neanche immaginare. Soprattutto, aggiunse lei, quando quei bastardi finiscono per farti passare per complice. Ti divora dentro. La donna aveva preso il posto della psichiatra e il dolore modellava ogni tratto del suo viso. Si chiuse nelle spalle e Landi la accolse tra le braccia senza domandarle altro. Lei lo lasciò fare. Era palese che si fidasse di lui e la fiducia reciproca era un ottimo punto di svolta per entrambi. Credo che tutte le scelte fatte siano lo strumento usato dal destino per farci affrontare i nostri fantasmi. Non credo al destino. Forse nemmeno io. Diciamo allora che siamo noi a determinarlo. Qual è la verità che stai cercando, Leonardo? Non era preparato a quella domanda, anche se si rese conto di averla inconsapevolmente innescata con la sua affermazione. Le mie origini? Penso che ognuno dovrebbe conoscerle. È come se ti mancasse qualcosa. Lasciò appeso il resto. Dimi di te, invece, una psichiatra da chi si fa aiutare per soffrire un trauma? Da un bravo collega. Anni fa ho conosciuto un certo Giordano Ferri del Centro Salute Mentale qui a Torino. Tuttora li mando in cura alcuni miei pazienti. È un bravo uomo. È uno psichiatra davvero in gamba. Mi ha aiutata a superare le paure. Io ho vissuto con lui un bellissimo periodo. Il più bello che ricordo. Il suo viso sembrò per un attimo quello di una bambina. Avevate una relazione? Sì. È un uomo che dà tutto se stesso. È da finita? Lui avrebbe continuato, ma per quanto mi riguarda non ha funzionato. Si vede che non era il momento. E tu? Donne? Dopo Giada? Lui allargò le braccia tra i cuscini e schiuse un timido sorriso. Come immaginerai, la ferita è relativamente fresca. Diciamo che fino ad oggi ho scelto relazioni indolori. Ma credo che la donna giusta da qualche parte ci sia, la scommessa a incontrarla. È lo stesso per me, credo. Allora, mi sono presa un attimo perché devo dire che è un dialogo potentissimo. Loro sono nello studio di lei e quindi lui probabilmente si mette un po' i cuscini. Succede anche quando ti senti a tuo agio con qualcuno che vi raccontano delle cose, magari hai una coperta, un cuscino in mano e quindi l'ho immaginato, l'ho immaginato così. Questo è quanto. Io ho deciso di parlare soltanto di loro, ovviamente per il tempo e perché sono personaggi che evolvono e che hanno una struttura importante. Ci sono personaggi altresì molto importanti naturalmente che ruotano attorno a loro e sono l'amica di Leonardo e ispettrice a Firenze che è Laura Pacini. Anche lei è una donna, è una donna che vale la pena leggere e conoscere. Poi c'è, abbiamo letto, la Serra che è con lei che ha voluto fortemente che Pacini e Landi andassero a Torino. Poi c'è Miss Marple, almeno così la chiama Laura, in realtà è Elisa Barale, anche lei è vice commissario, mi sembra di ricordare, vice questore Alessia Serra e sì, quindi deve essere commissario. Diciamo che la chiama Miss Marple e vi lascio indovinare, o meglio vi lascio la lettura per capire perché. Diciamo che proprio non nasce questa simpatia tra le due. Quindi, l'abbiamo detto all'inizio, praticamente sono tutte donne, ma sono una diversa dall'altra, quindi è stata bravissima anche in questo Ires Iris a dare una figure diverse per personaggi diversi e soprattutto dare dei ruoli importanti a queste donne che effettivamente sul lavoro sono davvero davvero molto molto brave. Adesso io vi lascio con una frase che ho letto nel libro e che mi è rimasta davvero impressa e che vorrei che vi lasciasse quello che ha lasciato a me, ovvero la voglia di riflettere. E la frase è, i sogni sono una breve pazzia e la pazzia un lungo sogno. La genesi del male di Iris Bonetti La genesi del male di Iris Bonetti